La Regione riconosce un'indenità aggiuntiva al personale del pronto soccorso. In base ai dati le risorse verranno ripartite tra le quattro ASL, ma l'accordo divide i sindacati perché la CGL ha deciso di non firmare. Per i sindacati che hanno aderito all'accordo si tratta di un passo in avanti importante per il riconoscimento del personale che opera in condizioni difficili. La CGL Funzione Pubblica invece sostiene che i dati riferiti all'ASL dell'Aquila siano incongrui e dunque non ha ritenuto di firmare. Per Luca Fusari, Antony Pasqualone e Marco Di Marco c'è qualcosa che non torna sui numeri sottostimati. Probabilmente a caso dell'attacco hacker subito dall'azienda che ha mandato in fumo molti dati. Per questo, per effettuare una verifica, il sindacato ha chiesto un confronto. Per la CGL inoltre la Regione ha proposto un valore fisso mensile pro capite per 12 mensilità dell'indenità di pronto soccorso pari alla fine a 145 euro, a prescindere dal numero di eccessi al pronto soccorso. Anche questa proposta per i sindacalisti merita un approfondimento perché prevede un utilizzo inferiore delle risorse estanziate per le ASL regionali. Con i 145 euro per 12 mensilità si arriva a impegnare quasi un milione e mezzo di euro a fronte di un milione e 800 provisto, una differenza di 375 mila euro, il cui uso per la CGL resta un mistero. Il dato è stato preso dai flussi informatici e nel 2023 l'Aquila, avendo subito un hackeraggio, chiaramente aveva, ipotizziamo noi, dei numeri di accessi inferiori in quanto non riportati nel flusso. Tant'è vero che, se andiamo a vedere il dato del budget, abbiamo circa 70.249 accessi con 236 personale sanitario individuato. La parte pubblica, su richiesta delle ASL, ha inserito un livello minimo, una misura di indennità da attribuire ad ogni dipendente dell'ASL che si occupava di emergenza e urgenza. In questo caso hanno fissato un'indennità ai 145 euro mensili. Questo vuol dire che, per esempio, per l'ASL dell'Aquila, questo dato va a coprire l'intero budget. Perché se faccio 145 per 236 persone, mi esce il budget previsto per l'Aquila di 413 mila euro. Ciò vuol dire che per l'ASL dell'Aquila, a livello aziendale, non andrò a contrattare l'ulteriore ripartizione per il personale.